E al primo posto, lavora in Toscano dal dicembre 2018, quindi sui anni, è diventato team manager proprio a gennaio 2021. Primo posto a Davide Finotti, team manager di Genova Centro. La ricetta di questi bei risultati, te poi hai 24 anni, giusto Davide? 24, 24, corretto. Ho iniziato a 22? Ho iniziato a 22, sì. La ricetta è lavorare, lavorare con costanza e dare sempre il massimo. Credo che questo sia il primo passo per creare un bel team di lavoro, cioè vedere vivi i risultati. Sì, noi abbiamo un'idea ben chiara anche su quello, è un percorso lungo perché creare un team forte a nostro modo di vedere richiede del tempo e ovviamente dell'attività. E in contemporanea siamo certi che selezionando le persone corrette che vedranno appunto quello che tendenzialmente è la leadership, siamo certi che ci seguiranno e siamo certi che avranno dei risultati. Complimenti Davide! Bravo, complimenti! Grazie mille Toli, grazie mille Toscano.